Ehi ragazzi, io sono Kallari, oggi siamo qui per vedere la top 5 sui migliori Pokémon Shiny di Alola. Alla quinta posizione abbiamo Ricori o Shiny, ma non tutti gli Ricori, solamente quello là di tipo fuoco, lo stile flamenco. Nella sua versione originale ha i colori rosso e nero, con il colore principale e il rosso, mentre nella nostra versione Shiny il colore principale diventa il nero e le strisci sono le ondite rosse, e secondo me la versione Shiny è migliore della sua versione quando è rosso con le strisce nere. Alla posizione numero 4 abbiamo Trampa Shiny. Alla Trampa è già bellissima nella sua versione originale, ma nella sua versione Shiny è ancora più bello, perché il suo colore si trasforma e diventa in un dorato con delle sfumature gialle, e diventa un bellissimo drago fattone dorato. Alla terza posizione abbiamo Stafford Shiny. Anch'esso è già bellissima nella sua forma normale, ma nella sua forma Shiny diventa ancora più bello, perché come il precedente Pokémon, cioè Trampa, acquisisce il colore dorato, che è un colore secondo me bellissimo e quindi diventa un Pokémon altrettanto bello. Alla posizione numero 2 abbiamo Passimian Shiny, ed ecco l'ennesimo Pokémon donato di questa top. È davvero bellissimo con le sue noci di cocco di colore dorato, la sua pelliccia con un colore di un giallo sfumato, e sulle spalle ha un colore blu davvero bellissimo. Alla prima posizione abbiamo Minion Shiny. Minion nella sua forma Shiny acquisisce il colore dorato. No, ok, basta con loro. In realtà Minion nella sua forma Shiny acquisisce il colore nero, con dei piccoli triangolini raffigurando i suoi colori nella sua forma originale, cioè verde, blu, rosso, giallo e arancione. E per questo si merita questa prima posizione, perché è davvero molto più bello degli altri, anche se non ha il colore dorato. E niente, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, commentate, condividetevi, e iscrivetevi al canale per un video interessantissimo.